A Nazareth Gesù vive da povero nel silenzio e nel lavoro, al Giordano si presenta come peccatore con i peccatori. L'Evangelista Matteo ci presenta Gesù che dalla Galilea si rega al fiume Giordano per farsi battezzare da Giovanni. Per noi che sappiamo che egli è figlio di Dio, fa specie vederlo in fila con gli altri peccatori in attesa del suo turno, come capita alle volte davanti a un affollato confessionale. Giovanni lo battezza e nel frattempo si aprono i cieli e lo Spirito Santo discenda su di lui come una colomba e dal cielo si ode una voce misteriosa del Padre. Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. La storia dell'umanità comincia da questo momento in cui lo Spirito Santo riempie di sé l'umile e povero lavoratore di Nazareth. Il discendere nell'acqua del Giordano prefigura l'umiliazione della sua passione, l'uscire dall'acqua la sua risurrezione. La predicazione di Giovanni scuoteva la religiosità del popolo, ma egli stesso era convinto della provvisorietà della sua missione. Egli diceva io vi battezzo con acqua, ma vieno uno che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure il legaccio dei santeri. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Il battesimo nella Chiesa. Il Santo Battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana, la porta che apre l'accesso agli altri sacramenti. Il Signore stesso afferma che il battesimo è necessario per la salvezza, difatti dà un comando specifico ai Suoi discepoli di annunziare il Vangelo e di battezzare tutte le genti. All'inizio della Chiesa il battesimo veniva amministrato per lo più alle persone adulte che erano in grado di vivere e capire cosa facevano. Coloro che desideravano il battesimo dovevano prepararsi sia per conoscere il significato, sia per una conversione di vita. Veniva celebrato in una forma solenne, quasi sempre la notte di Pasqua con la partecipazione festosa di tutta la comunità che accoglieva il nuovo battezzato, il fratello di fede nella Chiesa. Il battesimo non era solo vivere un momento bello della liturgia, ma iniziare un nuovo stato di vita. Oggi noi costatiamo che nel lungo corso della storia le cose sono cambiate e anche il significato del battesimo ha perso di incisività. Varie sono state le cause che hanno impoverito la stima per il sagramento, considerandolo come un rito per assegnare il nome al neonato e per dichiarare appartenenza alla Chiesa cattolica. Dal battesimo di Gesù al fiume Giordano notiamo la sua missione a favore di tutti gli uomini, servizio di salvezza, di liberazione, di giustizia. Per essere consagrati nel battesimo non è tanto un privilegio ma piuttosto un dono, dato a noi perché noi lo partecipiamo agli altri. Nel diario di Padre Agostino leggiamo che il maligno appariva a Padre Pio sotto forma di un gatto nero e brutto, di giovanette ignude che lascivamente ballavano, di carnefici che lo flagellavano. Da quel giorno mi hanno quotidianamente percorso, ma non mi atterrisco, non ho Gesù come mio padre. Grazie per la visione!